Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo video. Il camper che vogliamo presentarvi oggi è il Memphis 3 Max della McLewis. Iniziamo come al solito con una panoramica esterna, in questo caso stiamo parlando di un veicolo con la carrozzeria bianca. È arrivato con il pacchettino smart che comprende la veranda nera che potete vedere installata e il pannello solare a tetto. Il veicolo è completo anche di gradino elettrico, controporte in zanzariera, cerchi in lega da 16 pollici ed è stato ordinato con la meccanica 2003 da 140 cavalli. Vi ricordo che il listino base è con il 120, questa è un optional extra serie che si può richiedere alla occorrenza. La panoramica esterna, il davanti è il classico Ducato con paraurti nero, non in tinta. I sedili hanno le foderine in tinta con la tapezzeria, ma questo sarà un dettaglio che vedremo dall'interno. Passando al lato sinistro notiamo le due finestre, una che va sulla zona della dinette e quella più piccola in bagno. Poi quando vedremo il bagno vi farò vedere la nuova organizzazione che McLewis ha pensato per il bagno, scegliendo anche di non rinunciare alla finestra laterale apribile. Sulla parte bassa invece notiamo subito dopo lo sportello del carburante, che è qui davanti dove c'è chiaramente anche il serbatoio della D-Blue, l'attacco esterno della 220V, il cammino della caldaia combi, in questo caso stiamo parlando di un combi diesel da 4000 calorie, che è installato di serie su questo veicolo, lo sportellino della cassettina VC e l'imbarco per il serbatoio dell'acqua potabile. Passando alla parte posteriore invece i due portelloni originali Fiat sono dotati di vetratura, quindi non finestra extra serie apribile, ma vetro originale Fiat. Aprendo i portelloni notiamo la particolarità del veicolo, che è quella di avere i due letti matrimoniali sempre pronti in coda, con la possibilità di rimuovere solo il superiore, solo l'inferiore o entrambi. Per vedere le foto dettagliate delle varie configurazioni possibili nella zona notte, vi rimando al nostro sito www.campersoimex.it dove potete verificare tutte le varie possibilità di configurazione della zona notte. Ritornando al lato destro, lo vediamo di tre quarti posteriore e poi passiamo con la panoramica interna.